Buonasera, tra poco nel telegiornale temi forti soprattutto dalla campagna elettorale, la fondo di Monti contro Bersani, la Merkel teme una vittoria della sinistra in Italia e poco fa la risposta di Bersani, è un problema di Monti, non è un problema mio, e tanto meno della Merkel, ma poi vedremo anche che Berlusconi è sotto il fuoco di fila di tutti gli avversari per quella lettera a tutti, si suppone a tutti gli elettori italiani in cui si spiega come sarà restituita l'Imo del 2012, tant'è che si dice che alcune persone prese alla sprovvista siano già andate a fare la fila per richiedere il rientro di quei soldi, ma vedremo ovviamente che c'è chi l'ha presa meno a ridere, come Rifondazione Civile, la lista di Ingroia che ha presentato denuncia sostanzialmente perché si configurerebbe con quella lettera promessa una sorta di voto di scambio. Poi c'è la vicenda Giannino, ieri proprio qui ha ammesso di non avere, il nostro ospite ha ammesso di non avere nessun master, non aver conseguito nessun master a Chicago, ma anche di non avere nessuna laurea e si sa come questo abbia inclinato almeno in parte l'immagine del candidato premier di fare fermare il declino, che si è dimesso dalla presidenza di questo movimento, ma resta il candidato premier. E già ve lo dico, domani sera, se volete, lo vedrete in un faccia a faccia, l'unico tra due candidati premier che si sono prestati a vedersi e a sfidarsi proprio con Antonio Ingroia. Poi c'è Grillo ovviamente, che prepara il gran finale dello Tsunami Tour venerdì a Roma, Grillo su cui si appuntano i timori delle altre forze politiche per la crescita finale del 5 Stelle, ma su cui si esercita anche un altro tipo di riflessione da parte di D'Alema che dice che sarà opportuno contattare, interagire con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. E poi c'è un'altra questione, una brutta pagina, peraltro già è cancellata. Ricordate i due gay di Sanremo che attraverso i cartelli raccontavano il loro amore e il fatto che si andranno a sposare, ma non in Italia, dove non è possibile, uno spot elettorale di Fratelli d'Italia ha parodiato un po' volgarmente questa scena e vedremo come è stata rintuzzata, perché non ci sarà più, non la troverete più in rete, quali sono state le critiche. Critiche alla situazione italiana vengono ancora una volta da Standard & Poor's, che non ha fatto nessun downgrading e sarebbe stato grave, visto che mancano 4 giorni al voto, però con un documento riservato, che però subito è diventato pubblico, avverte che o c'è una maggioranza chiara in Italia o si rischia di non vedere la crescita neanche col binocolo. Parleremo poi anche del Papa, perché a quanto pare un motu proprio, quindi una legge con valore immediato di iniziativa della Santa Sede del Papa di missionario potrebbe accorciare i tempi di convocazione del conclave che potrebbe svolgersi quindi prima del previsto. E poi parleremo anche ancora una volta della Grecia, sapete che da tre giorni vi mostriamo la situazione in Grecia, visto che tanto si parla di questo paese ridotto in ginocchio e in alcuni strati popolari letteralmente alla fame dalla cura di cavallo imposta dall'autorità internazionale. Oggi era il giorno dello sciopero generale, che si è svolto con tranquillità, nel senso che non ci sono stati incidenti gravi, ma anche con drammatiche, allarmanti testimonianze sulla situazione sociale di quel paese. Andiamo a vedere insieme i titoli del nostro giornale di questa sera. Rush finale della campagna elettorale, Monti mette in campo il nome della Merkel, la cancelliera teme una vittoria della sinistra e credo non abbia nessuna voglia di vedere arrivare il PD al governo. Ha detto il premio riuscente che frena su un'ipotesi di alleanza con Bersani. Vince che arriva a primo la replica a stretto giro del leader del PD. La lettera di Berlusconi agli italiani per la restituzione del Limus catena una vera e propria bufera politica. Non pensavo che il Cavaliere arrivasse tanto, dice Monti. Ingroia va oltre, presenta un esposto alla procura di Roma contro il Cavaliere per voto di scambio e truffa elettorale. Ma lui Berlusconi replica tutto regolare. Dopo le polemiche sui falsi titoli di studio, Oscar Giannino ha fatto un passo indietro e si è dimesso dal presidente del Movimento Fare per fermare il declino. Ma è confermato come candidato premier, anche perché sarebbe impossibile ora cancellare dalle liste la sua qualifica. Intanto caccia i suoi elettori che forse potrebbero essere in uscita. È polemica per un video su internet di due candidati di Fratelli d'Italia per invitare gli elettori a votarli. Ricorrono alla parodia della coppia gay ospite di Sanremo, la ricorderete. I due ironizzano con un atteggiamento omofobico. Poveracci, sono gli intolleranti del nostro tempo, dice Vendola. Da parte sua, Crosetto e Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si sono scusati. In vista del voto scende in campo l'agenzia di rating Standard & Poor's. Stavolta non è per un possibile declassamento ancora una volta nel nostro paese, quanto per un avvertimento. Se non ci sarà una maggioranza stabile, dicono gli esperti dell'agenzia americana, sono a rischio le riforme e la crescita dell'Italia. La Grecia totalmente bloccata per lo sciopero generale contro la politica di austerità economica del governo. Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato in tutto il paese. Il cuore della protesta, come sempre, piazza Sintagma ad Atene, davanti al Parlamento, dove hanno sfilato disoccupati, pensionati, impiegati nel settore pubblico e privato. Nessuna tensione ha prevalso, solo un sentimento di scoramento per una crisi che sembra senza uscita. Evocata tante volte con la sua sagoma che si stagliava sullo sfondo di tante polemiche, oggi Angela Merkel è stata chiaramente chiamata in causa esplicitamente, per nome e cognome, da Mario Monti. La cancellera tedesca teme una vittoria della sinistra in Italia, ha detto il premier centrista. Immaginate le reazioni. Dubito molto che la signora Merkel auspichi un partito di sinistra al governo in un grande paese europeo in un anno di elezioni per la Germania. Altro che tifo di Berlino per un governo Monti-Bersani, il professore smentisce Berlusconi, che ha cercato di usare l'argomento antitedesco contro di lui. Di più, il professore sembra spingere la barra a destra per i fuochi d'artificio finali della campagna elettorale. Il premier aggira come una trottola, da una tv a una chatta. Oggi è al quinto appuntamento, le posizioni sembrano un po' ondivaghe. E se ieri era sembrato rilanciare il tema della possibile alleanza con Pierluigi Bersani e con il PD, anche, ma non solo, nella versione larga della coalizione. Oggi tira il freno, stimo il segretario democratico, ripete il professore, ma non mi fido della sua coalizione, inefficace alle riforme. Non è né una dichiarazione di alleanza né di dialogo in vista di un'alleanza, perché non c'è nessun dialogo in corso, né è un endorsement e una benedizione della quale del resto Bersani non ha bisogno. Il tema delle alleanze del resto non sembra pagante, soprattutto di fronte alla crescita di Grillo, né per Monti né tantomeno per i democratici. Ed è un tasto da cui si tengono lontanissimi nel comizio insieme poco fa a Palermo, Matteo Renzi e Pierluigi Bersani, che schierano il massimo della potenza di fuoco del partito in una piazza importante come quella della Sicilia, dove il Movimento 5 Stelle ha già fatto il pieno alle regionali. Il light motif è lo stesso per il sindaco e il segretario. Ce la faremo a conquistare la maggioranza. Il centrosinistra potrà governare da solo, ma attenzione, vince chi arriva primo. Caro Presidente Berlusconi, la corsia di sorpasso è a sinistra, a destra c'è la corsia di emergenza. Saremo noi a sorpassarvi in Sicilia, saremo noi a sorpassarvi in Lombardia, saremo noi a dare garanzie di un governo stabile. Ma i prossimi cinque anni non ne possiamo più di governi che durano lo spazio di un mattino. Noi dobbiamo dare un mandato forte al centrosinistra e al nostro candidato di riuscire a governare per cinque anni. O vinciamo noi o vincono loro, il meccanismo è quello. Qui vince chi arriva prima e se qualcuno poi il giorno dopo si ritrova ancora con Berlusconi e con la Lega, deve far poi la sua riflessione dopo. Attenzione, perché è uno che prende il voto e dice, sa io lo faccio per protesta, lo faccio così, per fedeltà ideologica, e poi si trova Berlusconi e la Lega, ci rifletta un attimo. Come vedete c'è preoccupazione per una possibile rimonta di Berlusconi e quanto comunque alla Merkel. Poco fa Bersani dopo il comizio ha detto ai cronisti, questo è il timore della Merkel, non so se è un problema della Merkel o di Monti, non l'ho capito, questo lapidariamente Bersani. Si diceva di Berlusconi, i timori crescono e le polemiche crescono e anche le denunce, come vedremo dopo il colpo della lettera ai contribuenti italiani. Eccola la lettera dell'Imu, ultimo hit di questa campagna elettorale. Berlusconi l'ha mostrata ieri alzando un gran polverone, piogge di reazioni, fino all'esposto presentato alla procura di Roma da rivoluzione civile, dove si parla di voto di scambio e truffa elettorale, mentre Bersani dà al cavaliere dell'imbroglione. Imbroglione io, minaccia in stile comunista la replica, ma se gli italiani lo votano il problema sono loro, dice Monti, dopo aver ricordato tutte le promesse, ultima per l'appunto sull'Imu, non mantenute dal cavaliere. Ho messo l'Imu sulla prima casa per colpa sua, dice Monti. Le letterine si mandano a Natale, osserva Rutelli. Di Pietro parla di truffa da codice penale e Benedetto della Vedova di pura crudeltà. Non sanno più a cosa attaccarsi, reagisce Berlusconi. Era solo un'idea giusta per un'imposta da sprovveduti dell'economia, minimizza il cavaliere. Ma intanto c'è chi ci crede per davvero. E a Genova la gente si è messa in fila presso i centri di assistenza sindacale per chiedere i moduli per la restituzione dell'Imu. Tuttavia, quella letterina, una persona non proprio avveduta, poteva indurla all'errore. L'intestazione era chiara. Modalità e tempi per accedere nel 2013 al rimborso dell'Imu pagata nel 2012. Diciamo che l'equivoco poteva essere dietro l'angolo. Nella lettera si dice anche che l'amministrazione finanziaria invierà un modulo firmato dal nuovo ministro dell'economia, e cioè dal sottoscritto Silvio Berlusconi. Ed è proprio attorno a lui che oggi il PDL fa quadrato. Lupi parla di paura per le proposte concrete, Mara Carfagna di denunce ridicole che offrono la dimostrazione plastica che la sinistra è senza argomenti. E la Boniver, tornando indietro nel tempo, di tintinnar di manette. Manette o non manette, secondo Gianfranco Fini, Berlusconi considera gli italiani degli allocchi. E Casini parla di fandonie che ci riportano indietro al tempo in cui Berlusconi ha messo in ginocchio questo paese. I titoli di studio sono evidentemente insidiosi per la politica italiana. L'ultimo a sperimentare questo effetto boomerang è stato, come sappiamo, Oscar Giannino. Ieri sera, proprio qui, ospite del nostro telegiornale, ha ammesso, ancora una volta, che quel master a Chicago non l'ha mai conseguito. Ma anche, per la prima volta, che non è neppure vera la storia delle due lauree. Non si è mai laureato. E oggi ha fatto, conseguentemente, bisogna dare in atto, il passo indietro che alcuni auspicavano. Alle 16 via Twitter si ferma la corsa di Oscar Giannino. Paladino della trasparenza, inciampato su un falso curriculum, offre il suo sacrificio per evitare il naufragio del suo movimento a quattro giorni dal voto. Dimissioni irrevocabili da Presidente e danni su di me per inoffensive ma gravi balle private non devono nuocere a fare per fermare il declino, scrive mentre ancora in corso la direzione che avrebbe dovuto pronunciarsi sul suo passo indietro. Chi sbaglia paga, giunge poco dopo, sempre via internet. Un gesto politico e simbolico ma poco tecnico, resta infatti candidato premier. Impossibile cancellarsi dalle liste. Quanto al suo futuro, in caso fosse eletto al Senato, la spiegazione arriva in serata. Mi dimetto, ma il seggio resta a fare. I suoi sperano che ci ripensi. Lui, descritto molto amareggiato, evita taccuini e telecamere. Al termine della direzione, un comunicato letto dal suo portavoce nel quale si rivendica coerenza. Applichiamo per primi i sacrifici che chiediamo a tutto il sistema, anche se scrivono. In questo caso si è trattato di attacchi esterni alla politica. Il tempismo della denuncia di Zingales, a pochi giorni dal voto, alimenta dietrologie. Si parla di macchina del fango. Ragazzi, qui c'è gente che partono via i soldi da fine meccanica, partono via i soldi dappertutto e nessuno dice nulla. Qui, per una stupidaggine, un uomo ha messo in gioco la sua vita. È un segnale al paese importante questo. Al suo posto arriva una donna, Silvia Enrico, avvocato, 36 anni, tra i fondatori di fare, ma non candidata. Raccoglie un movimento nato in nome della trasparenza e del merito, scivolato su un clamoroso autogol, ma rivendica. Noi crediamo che dopo oggi questo episodio in realtà ci rafforzi, perché credo che una risposta di questo genere nessun'altra forza politica in Italia avrebbe avuto il coraggio di mettere in atto e che non ha mai dato fino ad oggi. Beh, due ministri in Germania, però, già sì. In Italia, ho detto, infatti. Non siamo in Germania. La caccia ai suoi voti, però, è già aperta, specialmente al nord, dove potrebbe raccogliere consensi decisivi. Dalla Lombardia arrivano due oppostili di segno opposto. Sia Maroni che Ambrosoli, candidati alla guida della regione, si rivolgono ai suoi elettori, sperando che siano in libera uscita. Staremo a vedere. Sicuramente in queste ore la propaganda è affannosa, ossessiva e, come vedete, utilizza tutti gli strumenti. Anche l'arma della parodia, che spesso è a doppio taglio, soprattutto quando è greve. Il video è stato rimosso nel giro di poche ore, controbilanciato da un non si può fare un minimo di ironia che subito scattano riflessi pavloviani. La reazione dei due esponenti veneti di Fratelli d'Italia è del tipo non capisco ma mi adeguo. A guardia bene, però, nel video muto, solo cartelli, messo in rete con lo scopo di controbattere a quello già andato in scena dal vivo nei giorni scorsi durante il Festival di Sanremo, l'ironia sembra non l'abbia vista nessuno. Se quello affrontava senza parole uno dei temi politicamente sensibili, ancorché non previsto dalla legge, come il matrimonio tra omosessuali, in questo le tracce non solo di ironia ma anche di leggerezza risultano impercettibili, specie con l'invito finale al voto, piuttosto sui generis, con quella che doveva essere la scritta clou, con la parola che di clou è tra l'altro l'anagramma. Inutile dire che delle tante reazioni fioccate nel giro di poco, complice anche la campagna elettorale, nessuna faceva riferimento all'ironia, semmai ad una presunta istigazione all'omofobia, con una serie di vergogna, condanna, volgarità, stupidità da associazioni varie ed esponenti politici, a cominciare da Niki Vendola. Io devo dire che più che offeso mi sento imbarazzato, perché penso che l'esibizione dell'ignoranza dovrebbe far riflettere gli esibizionisti, perché nuoce gravemente alla loro immagine, alla loro credibilità, insomma, poveracci. Francamente penso che bisognerà forse organizzare ricorsi di recupero. E con l'imbarazzo repentino espresso da due dei leader di Fratelli d'Italia. Chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese e irritate da quel video, ha detto Guido Crosetto, mentre Giorgia Meloni ha chiesto scusa a nome di Fratelli d'Italia per il video parodia di pessimo gusto, realizzato in maniera autonoma da alcuni esponenti padovani. Un fuoco fatto, video, come detto, già rimosso. Qualche traccia ora solo sul più indelebile Twitter. Qualche traccia invece su internet c'è e anche di più della grande mobilitazione che stanno facendo dalle parti del Movimento 5 Stelle perché venerdì il comizio finale, vecchio stile, di Beppe Grillo a Piazza San Giovanni a Roma sia qualcosa di importante. Ma nel momento in cui avete visto forse i titoli dei giornali di stamattina e detto gli articoli ovviamente la preoccupazione per l'ascesa del Movimento 5 Stelle è cresce, c'è anche qualcuno che dice beh ma con questi ci dobbiamo anche parlare. Ora è allarme, quell'allarme che Grillo lancia da settimane è diventato rosso. I partiti si sono resi conto che il suo tsunami può travolgerli piazza dopo piazza, avanza con l'onda e con l'aiuto di volti noti come Celentano e Dario Fo. Venerdì l'onda investirà la capitale per la conclusione a Piazza San Giovanni. Intanto in ritardo forse il corteggiamento è partito. Bersani annuncia che il PD dovrà fare scouting. D'Alema rinforza. I parlamentari del Movimento 5 Stelle sono interlocutori. Noi dialoghiamo con tutti. Non diamo coordinate di Al-Qaeda. Per Berlusconi, Grillini e i suoi potenziali elettori sono persone senza testa, pericolosi, vicini forse all'estremismo di sinistra e ai centri sociali. Parole forti. Per Monti non bisogna demonizzare ma intercettare. Una comparazione tra i due elettorati quasi possibile. L'antipolitica, chi è stanco della vecchia politica, unisce o potrebbe unire idealmente Scelta Civica e il Movimento 5 Stelle. Loro protestano ma io ho anche la proposta, aggiunge Monti, che dice, mi rivolgo agli elettori di Grillo e domando cosa accadrebbe se l'Italia uscisse dall'euro. Oggi il campanello d'allarma è suonato più forte. Mancano pochi giorni. Oggi Grillo è in Molise, piazza più piccola ma sempre gremita. Non lo so come andrà, non lo so, solo che c'è un terrore che aleggia, c'è un terrore, facciamo paura e persone normali cominciano a fare paura. Sicuramente qualcuno ha paura comunque dell'esito delle elezioni. È Standard & Poor's che come sappiamo purtroppo ci ha già dato dei dispiaceri anche a volte immeritati con il declassamento del debito del nostro paese e declassamento anche di imprese, aziende e banche italiane. Questa volta è un rapporto che viene fatto sul futuro dell'Italia in cui si dice attenzione che se non ci sarà una maggioranza chiara dalle urne potreste risentirne anche in termini di mancata crescita. Ci mancava solo lei ad intervenire nella nostra campagna elettorale Standard & Poor's. Stavolta non boccia il nostro rating, a quattro giorni dal voto non sarebbe carino, ma comunque la sua l'ha voluta dire lo stesso, per bocca dell'uomo che da anni ci tiene sotto osservazione per conto appunto di una delle tre arcigne sorelle del rating. Moritz Kramer, quello che dice onestamente non sa di grande novità perché in fondo le incertezze che gravano sul nostro futuro le conosciamo un po' tutti. Di nuovo c'è che a quanto pare, dopo le grane passate, le agenzie di rating hanno finalmente imparato a fare certe comunicazioni a mercati chiusi. Bene, ma cosa dice esattamente Kramer? Riteniamo che esista il rischio che dopo le elezioni del 24-25 febbraio possa esserci una perdita di slancio sulle importanti riforme strutturali per migliorare le prospettive di crescita italiane. Tradotto, una situazione di scarsa governabilità nuocerebbe gravemente all'economia italiana. Già, la crescita, perché è a questa che adesso Standard & Poor's guarda con grande attenzione, più che alle performance di bilancio. E non solo perché le politiche perseguite in questi mesi hanno portato ad un avanzo primario, ma soprattutto perché Moritz Kramer sa che, stretta nelle maglie del fiscal compact e del pareggio di bilancio strutturale, la direzione di marcia è obbligata. Insomma, chiunque venga dopo monti di grossi sfraceli non ne può fare a livello di bilancio. La credibilità, quella, è un'altra cosa. Ma quello che interessa ora Standard & Poor's è la crescita. Per liberarla, dice Kramer, la strada è dunque obbligata. Bisogna eliminare la nostra economia dei lacci che la tengono compressa e quindi meno rigidità sul mercato del lavoro, un mercato dei servizi meno protetto e meno tasse sul lavoro e industria. Niente di nuovo sotto al sole, verrebbe da dire, visto che sono anni che le agenzie di rating battono su questi tasti a forza di downgrade e outlook negativi. La conclusione è preoccupata. L'implementazione delle misure per rilanciare le prospettive di crescita nel medio termine dipende dalla forza del mandato che il prossimo governo avrà in tutti e due i rami del Parlamento. Ripetiamo, in tutti e due i rami del Parlamento, segno evidente che nel momento in cui banche e fondi di investimento si affidano ai sondaggi per capire il futuro, anche Standard & Poor's ha ben presente che la partita più importante si gioca al Senato. E la stessa situazione che si vive in Italia, che tra poco vedremo si vive anche molto peggio in Grecia, cioè di preoccupazione, paura del futuro e crescita della fascia dell'indigenza, la si attraversa in Spagna, dove oggi il governo di Mariano Racoi ha promesso in Parlamento una serie di misure drastiche, molto più forti peraltro di quelle che circolano nella nostra campagna elettorale sotto forma di proposte e di promesse. Sospensione del pagamento dell'IVA per le piccole e medie imprese e sgravi assoluti per chi assume i giovani disoccupati. Questo ha proposto Racoi in Spagna. Nello stesso momento, nelle stesse ore in cui lo stiamo per vedere, in Grecia si attuava uno sciopero generale che ha sigillato letteralmente il paese, il nostro inviato. Dobbiamo andare avanti, senza fermarci, non possiamo permettergli di schiacciarci. Non vedete che hanno paura di noi? Di cosa avete paura? Guardatemi, non ho armi, non ho più nulla. Questo è l'unico scontro fisico tra i manifestanti e la polizia di Atene, una sola persona alla quale oggi viene concesso, tra gli applausi, di rompere simbolicamente il cordone di sicurezza. Colpisce che i più decisi tra la folla siano spesso quelli che meno ti aspetti, le persone anziane. Perché siete contro di noi? Siete o non siete anche voi, figli della Grecia? E le signore? E io dovrei continuare a pagare le tasse per regalarvi lo stipendio, ma basta leggere qualche cartello per capire che non c'è nulla di strano. Un ragazzo, ancora una speranza di un futuro diverso, ma un vecchio con 201 euro di pensione al mese, è costretto a sfilare per le strade di Atene con un cappio al collo. A Piazza Sintagma oggi si consuma l'incontro tra le due facce della Grecia. La Grecia dei numeri, dei bilanci, dei conti e quella dei volti, sui quali i numeri si sono abbattuti. Ci dicono che ora arrivano i soldi dall'Europa, di stare tranquilli, che chissà quando le cose miglioreranno. Ma il mio futuro comincia domani, sono disoccupato dal marzo scorso, ho fatto 44 anni e sopravvivo insieme a mia sorella, con i soldi della pensione di mio padre. Per quattro ore un fiume in piena attraversa Piazza Sintagma, mentre un corteo altrettanto interminabile aspetta nelle vie di accesso di poter entrare. Sento un poliziotto chiedersi, ma quando arriva la coda? E tuttavia non bisogna farsi ingannare, quella di oggi non è stata una dimostrazione di forza. Il sentimento che prevale è lo scoraggiamento. Per dirti la verità non aspetto niente più. Lo vuole dire in italiano, straiula una delle manifestanti che poi continua in inglese. Dobbiamo venire perché non ci rimane altro, ma so che a loro non importa. Le faccio notare quello che a me ha colpito di più, e cioè che mentre migliaia di persone sfilavano sotto le finestre del Parlamento per farsi ascoltare, le finestre erano sprangate, che mai come oggi il Parlamento assomiglia tanto ad uno dei mille negozi di Atene finiti in bancarotta. Sì, non hanno nessuna paura di noi, e non so perché. Poi, all'improvviso, quasi di fretta, la folla scivola via. E come vedete alle mie spalle la polizia si è tolta la maschera antigas, si sono rilassati, la piazza si va svuotando, è stata una manifestazione pacifica, lo sciopero generale sta finendo. Per chi è al lavoro, domani si torna al lavoro, per gli altri c'è da sopravvivere, in qualche modo. Andremo avanti a raccontarvi la crisi greca che molti additano, indicano come la prospettiva peggiore che ci può capitare se non comincerà a mulinare la ripresa. Ma intanto andiamo a quello che è un appuntamento che porterà l'attenzione del mondo sul nostro paese. Solo perché nel nostro paese c'è quell'enclave che si chiama Città del Vaticano. Lì, probabilmente prima del previsto, grazie a una decisione che si trasformerà in un motu proprio, di Benedetto XVI, il conclave potrebbe arrivare appunto molto prima del previsto. La fretta è del diavolo, la lentezza è di Dio, dice il proverbio, ma a dispetto del detto popolare è inutile girarci intorno. Tra le mura vaticane c'è impazienza per aprire, o meglio, chiudere le porte del conclave. Da più parti del variegato mondo cattolico e cardinalizio si chiede dunque di affrettare i tempi per eleggere il successore di Benedetto XVI al Soglio di Pietro. La tradizione millenaria di aspettare almeno due settimane per riunire i cardinali fa botte con la novità di un papa di missionario e nell'era di internet delle porpore globetrotter forse un po' di celerità questo ragionamento non guasterebbe, anche perché non c'è da piangere un papa morto, tanto meno da organizzarne i funerali. Ed ecco quindi che dal Vaticano trapela la notizia che il papa, prima del 28 febbraio, ultimo giorno del suo pontificato, potrebbe prendere in considerazione la pubblicazione di un motu proprio sul conclave, ossia un documento per precisare alcuni punti particolari della Costituzione Apostolica sul conclave, su questo conclave, la cui eccezionalità potrebbe appunto giustificare una deroga sulla convocazione dei cardinali. Il portavoce padre Lombardi non sa di più oppure di più non vuol dire, ma se Benedetto XVI decidesse davvero di accorciare i tempi avrebbe guadagnato un altro primato dopo quello delle dimissioni tra otto giorni, quando il papa uscirà di scena in elicottero, mentre tutte le campane di Roma suoneranno come suoneranno tutte quelle di Castel Gandolfo, quando l'elicottero atterrerà nella residenza estiva. Ratzinger, prima di ritirarsi nel silenzio del suo status di ex pontefice, si affaccerà dal balcone per salutare per l'ultima volta i fedeli. Oggi borsa in negativo, meno 0,82 la chiusura del Fuzimib a piazza Fari, Dow Jones in questo momento meno 0,27. Per quanto riguarda lo spread, il rapporto tra i nostri buoni del tesoro decennali e i bunde tedeschi è a 276. Tra poco, dopo di noi, c'è Mario Monti, ospite di Lilli Gruber in otto e mezzo. Poi ci sono le invasioni barbariche e tra gli ospiti di Daria Bignardi c'è anche Oscar Giannino, l'uomo di cui per molti motivi si parla molto in queste ore e in queste giornate. Noi adesso ci fermiamo. Allora, vi ho detto che c'è Monti, ospite di Lilli Gruber in otto e mezzo. Con le parole di Monti sulla Merkel, che non sarebbe certo contenta di vedere la sinistra guidare il governo nel nostro paese, in un importante paese dell'Europa, abbiamo aperto il giornale. Proprio in questo momento è arrivata da Berlino la precisazione del portavoce della cancelliera tedesca che dice Angela Merkel non si è espressa sulle elezioni italiane e non lo ha fatto neanche in passato. Queste, testualmente e senza commento, almeno da parte mia, le parole che arrivano da Berlino. Ha usato il portavoce della cancelleria tedesca Twitter per far circolare il prima possibile queste parole che quindi ridimensionano evidentemente la portata della polemica riguardo appunto ai timori tedeschi riguardo a una vittoria del centro-sinistra in Italia. È tutto? Allora vi lascio a otto e mezzo e vi ricordo che subito dopo ci sono le invasioni barbariche dove c'è anche Oscar Giannino. Buonasera domani. Grazie a tutti.